Il mondo del food service dolce torna alla fiera di Rimini con il CIGEP, il salone di Italian Exhibition Group dedicato a gelateria, pasticceria, panificazione e caffè. 90.000 metri quadrati con i grandi protagonisti del settore, con le novità attese dal mercato internazionale ma anche con innovative curiosità come i sistemi di intelligenza artificiale per le casse che riconoscono i cibi selezionati e fanno il conto o il fornetto porta pizza per la consegna a domicilio. Questo è l'appuntamento annuale di tutto il mondo che gira intorno alle gelaterie, alle pasticcerie, alle panetterie, quindi un mondo assolutamente che è capillare nel nostro paese e che ogni anno si trovava qui a gennaio. Farlo a marzo sicuramente è stato un piccolo sacrificio anche per noi ma anche per chi deve poi parteciparvi ma ovviamente a gennaio era impensabile poter fare una manifestazione in sicurezza. Quindi è un mondo che si ritrova, esce da un periodo di clausura e abbiamo fatto il possibile per dare loro il miglior palcoscenico. Il salone torna in presenza con 950 brand espositori per un settore che in Italia nel 2021 si stima abbia generato un valore complessivo di 9,5 miliardi di euro di fatturato. Dopo oltre due anni di digitale, insomma, tornare qui ha mille significati, sia per quello che abbiamo passato, per quello che a me ancora stiamo vivendo in Europa, ma insomma direi che la risposta che c'è stata dagli espositori e in questo primo giorno anche dai visitatori è stata quella proprio di un sollievo, un sollievo di potersi rincontrare e discutere del proprio lavoro.